Sostituisci il vecchio calorifero con i nuovi termoarredi di Leroy Merlin. Il termoarredo Leroy Merlin è la soluzione perfetta per sostituire i vecchi caloriferi con design moderni ed efficienti. I termoarredi Leroy Merlin trasformano l'ambiente con stile, offrendo eleganza e funzionalità in ogni stanza di casa. Gli scaldasalviette De Longhi offrono soluzioni compatte ed eleganti, ideali per ambienti piccoli ma raffinati. Materiali di alta qualità, come l'acciaio, garantiscono efficienza energetica e semplicità di manutenzione. Nei termoarredi Leroy Merlin.